Cari ascoltatori, benvenuti ad una nuova puntata di Radio Puggino NER, il vostro punto di riferimento per le notizie, approfondimenti e le riflessioni su eventi di grande rilevanza ed eventi curiosi o interessanti come quello di cui andremo a parlare. Ci immergiamo in un tema di profonda spiritualità che sta catturando l'attenzione di migliaia di fedeli in tutto il mondo e noi dopo esserci occupati per mesi di Gisella Cardia e le apparizioni naturalmente fasulle della Madonna di Trevignano ci stiamo occupando e stiamo mettendo la nostra attenzione anche su molti altri casi simili e non può mancare Meggiugori ed eccoci qui per un altro aggiornamento. Le apparizioni della Madonna di Meggiugori parleremo della recente chiamata della Madonna sul Podbrodo, no sul Podbrdo, non so se è giusto se si pronuncia così, Podbrdo, la collina delle apparizioni insomma e dell'incredibile afflusso di pellegrini che stanno rispondendo a questo invito speciale. Preparatevi per un approfondimento che vi accompagnerà nei prossimi minuti esplorando la storia, il significato, l'impatto di questo evento straordinario perché si presuppone lo abbia organizzato la Madonna stessa. Ormai potremmo definirli eventi più che straordinari strano ordinari perché ogni giorno praticamente c'è l'apparizione della Madonna da qualche parte. Il 15 giugno 2024 è stata una data che ha segnato profondamente il cuore dei devoti della regina della pace Maria Pavlovich, una delle tre veggenti di Meggiugori, ha ricevuto una particolare richiesta dalla Madonna. Salire sul Podbrdo, la collina delle apparizioni, ogni sera dal 16 al 24 giugno per pregare il Rosario alle ore 22. Questa chiamata non è stata disattesa, è già dal primo giorno che una folla di fedeli si è radunata per rispondere a questo invito. La richiesta della Madonna è stata chiara e urgente, pregare per la pace nel mondo, un'intenzione che risuona con forza in un periodo storico segnato da conflitti e tensioni globali. Dunque, nulla di male se si prega per la pace, anzi, si dovrebbe parlare di pace tutti i giorni, vista l'urgenza che ce n'è. Certamente di male c'è che non c'è bisogno e non è giusto inventarsi che lo abbia chiesto la Madonna. Si poteva organizzare ugualmente, che ne dite? Per capire l'importanza di questo evento per i seguaci della Madonna di Meggiugori, è essenziale conoscere il significato del Podbrdo, noto anche come la collina delle apparizioni. Meggiugori, situata in Bosnia-Herzegovina, è diventata un luogo di culto famoso da quando, nel 1981, sei giovani affermarono di avere visto la Vergine Maria. Dallora il luogo è diventato un centro di pellegrinaggio per milioni di fedeli da tutto il mondo. La collina del Podbrdo è considerata il luogo originario delle apparizioni e rappresenta un sito sacro dove i fedeli si recano per pregare, riflettere e cercare conforto spirituale. Come sempre c'è anche chi cerca il miracolo, chi vorrebbe capire di più, è curioso, vorrebbe addirittura vedere la Madonna, oppure dei segnali tipo il sole che pulsa, cose di cui abbiamo parlato a lungo anche nel caso di Trevignano Romano. Dunque l'invito della Madonna ha tirato migliaia di persone sul Podbrdo, d'altra parte, se l'invito viene da lei, voglio dire, naturalmente, essendo una delle influencer più famose tuttora, nonostante lo sia stata nella storia, ma soprattutto adesso, che è pieno di influencer, sembra ancora essere, nonostante i duemila anni di età non in vita, cioè, no, volevo dire di vita, perché comunque è stata assunta in anima e corpo, secondo la Chiesa in cielo, per cui dovrebbe essere ancora viva, per questo ha la possibilità di apparire, cioè viva per modo di dire viva, ma non viva come lo intendiamo noi, insomma, ci siamo capiti. Sicuramente dalle apparizioni e dai messaggi una delle influencer più in voga in questo momento. Dunque i pellegrini, provenienti da diverse parti del mondo, si sono uniti ai parrocchiani locali in un momento di preghiera collettiva. Ogni sera, alle 22, la collina si trasforma in un santuario con i fedeli che pregano il rosario in diverse lingue, intervallato da canti melodiosi che creano un'atmosfera di profonda serenità. Ma la chiamata della Madonna non è limitata solo a coloro che possono essere fisicamente presenti a Meggiugori. Come vi dicevo, ormai, grazie alla tecnologia, milioni di fedeli in tutto il mondo possono unirsi spiritualmente a questo momento di preghiera e Radio Maria, ad esempio, trasmette il rosario ogni sera alle 22, permettendo a chiunque di partecipare a distanza. Inoltre, piattaforme come Meritv.tv e la pagina Facebook della Costola Rosa offrono dirette video, ampliando ulteriormente la portata di questo evento. Ma d'altra parte, ripeto, se si tratta di un evento organizzato da una delle più grandi influencer del momento, allora sicuramente la risposta arriva. Ripercorrere la storia delle apparizioni di Meggiugori ci aiuta a comprendere il profondo impatto che questo luogo ha avuto sulla fede di milioni di persone e noi ne abbiamo parlato in diverse occasioni. dal 1981 Meggiugori è stato un faro di speranza e spiritualità per molti, con la Madonna che ha continuato a trasmettere messaggi e ad apparire ai veggenti, tra cui Maria Pavlovich, che ha condiviso numerose esperienze e visioni che hanno rafforzato la fede dei seguaci, ha tirato un numero crescente di pellegrini. Il periodo dal 16 al 24 giugno non è casuale. Queste nove serate di preghiera culminano con il 43esimo anniversario delle apparizioni di Meggiugori, un'occasione speciale per riflettere sul messaggio della Madonna e rinnovare il proprio impegno spirituale. Dunque vedete che organizzazione la Madonna, sapendo che era l'anniversario delle proprie apparizioni, per la sua festa organizza un ottavario, sono nove giorni, quanti giorni sono, insomma organizza queste serate in attesa dell'evento, insomma un'organizzazione proprio di quelle serie, altro che Chiara Ferragni. Ma d'altra parte, a parte l'ironia, la scelta di pregare per la pace nel mondo è particolarmente significativa in questo momento, poiché invita i fedeli a guardare oltre le proprie vite, a considerare il benessere dell'umanità intera. Uno degli aspetti più interessanti di questo evento è la preghiera collettiva, quando migliaia di persone si uniscono in preghiera, dove si crea un'energia spirituale che può avere effetti psicologici profondi. La preghiera del rosario in particolare è una pratica che ha radici profonde nella tradizione cattolica, rappresenta un modo per connettersi direttamente con la Madonna e chiedere la sua intercezione. L'invito della Madonna, la risposta dei fedeli, non hanno solo un impatto spirituale, ma anche sociale. In un'epoca di divisioni e conflitti, eventi come questo ricordano l'importanza dell'unione, se si tratta di pregare per la pace. Non è solo un atto di devozione, ma un richiamo a tutti per lavorare per un mondo migliore, più giusto e pacifico. Dunque, sposo appieno il tema, la preghiera per la pace. D'altra parte, come sapete bene, non credo né alla Madonna né alle apparizioni, per cui, cosa posso dire? Non vedo nulla di male in questo, non sembra che ci siano delle apparizioni dunque in queste serate, vedremo cosa succederà il giorno dell'anniversario. Dunque, l'evento che si sta svolgendo a Meggiugori rappresenta un momento importante per i seguaci di tutto il mondo, la chiamata della presunta Madonna sul Poprdo ha riunito migliaia di persone già creando un ponte spirituale che attraversa i confini geografici attraverso il web. Grazie alla tecnologia, anche coloro che non possono essere presenti fisicamente possono unirsi nella preghiera rendendo questo evento davvero globale. e vi ringraziamo per averci seguito in questo episodio di Radio Puggino NER continueremo nei prossimi giorni a tenervi aggiornati sugli sviluppi e vi invitiamo ad unirvi a noi per ulteriori riflessioni e discussioni nei commenti del nostro podcast su questo tema di grande rilevanza e su molti altri. Al prossimo episodio di Radio Puggino.